Buona visione da Strada del Vino e dei Sapori del Trentino Buongiorno, sono Rosario della Cantina di Laris e Valle del Senna La nostra è una cooperativa di 800 viticoltori che lavorano nelle più vocate zone viticole del Trentino in particolare in Valle di Cembra e sulle coline viziane Fin dalla nascita siamo soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino perché crediamo molto nel ruolo di questa associazione Presso le nostre vinoteche di Laris e Cembra potete conoscere e assaggiare le nostre cervezze emoziche Conoscete una storia, magari attraverso una vista della cantina o una passeggiata nei viniti incontrando un socio viticoltore Partecipare ai nostri eventi che organizziamo costantemente durante l'anno Vi aspettiamo dunque presso le nostre vinoteche per un brindisi assieme Vi ricordiamo che siamo aperti e che ora possiamo anche portare il vino direttamente a casa vostra per essere ancora più vicini Vi aspettiamo dunque presso di noi per un brindisi assieme Ciccini Arrivederci da Strada del Vino e dei Sapori del Trentino Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!